Carpignano-Salentino rinuncia alla propria tappa della Notte della Taranta, prevista per il 6 agosto. Quattro casi di Covid nel comune di quasi 4.000 abitanti nel mezzo del Salento. E il sindaco Caputo ha preferito evitare il concerto, annullando anche gli altri eventi dell'estate. Il primo cittadino raggiunto dalla nostra redazione spiega così la propria scelta. Il problema è che ci sono altre persone in quarantena, ovviamente poste in quarantena dall'ASB perché avevano avuto contatti con i casi conclamati e comunque il quadro epidemiologico non si è ancora stabilizzato, non è del tutto chiaro. Anche le persone che sono state poste in quarantena finirebbero la quarantena giusto il 5, 6, 7, intorno alla data in cui si deve svolgere la tappa della Notte della Taranta a Carpignano. Quindi questo quadro epidemiologico non ancora chiaro al 100%, con quattro casi conclamati, con altre persone poste in quarantena, non mi sembrava il caso di far correre rischio ai miei concittadini, innanzitutto perché sono i miei amministrati, ma anche le persone che provengono da fuori e che sarebbero stati ospiti.